Chisss! Signora Preston, hanno lasciato il nostro messo per lei. Ma chi l'ha lasciato? E' apposato un ragazzo poco fa. No, non l'ha lasciato per lei. non so, vabbè grazie si figuri ah ma c'è tutto il telefono addirittura acceso ma come è possibile signora presto? si volevo solo assicurarmi che avesse ricevuto tutto si buona serata pronto? pronto? no l'anima non c'è tempo di pensare all'amore adesso Devo pensare solo solo Grazie a tutti Grazie a tutti